Poi tante esperienze anche nella mia infanzia, per esempio tipo la Cresima, non so, io sono stato bocciato alla Cresima, è vero, sì sì è vero, per conseguire la Santissima Cresima bisogna frequentare il Catechismo, che non è un'arte marziale cattolica, non è che uno dice sono cintura nera di Catechismo, è un corso di preparazione alla Santissima Cresima. Io mi ricordo che quando facevo Catechismo, durante la lezione c'era la maestrina di Catechismo e ogni tanto passava a sorpresa tra le classi, passava Don Mario, che era il lead vocalist della parrocchia, era il cantante della parrocchia, era un bel pretone bello alto con i sopracciglioni, una bella vocella, lui entrava tra le classi, entrava a sorpresa e faceva E quando il ciel, dei santitoi, e quando il ciel, dai ragazzi allora cantiamo no, vi voglio più dinamici allora, e quando il ciel, e quando il ciel, dei santitoi, dei santitoi, la grande schiera arriverà, oh signor come vorrei che ci fosse un posto per me. Che io pensavo, ma questa non era Wonder Sand Gormacini, quella, Wonder Sand Gormacini, boh ci sono stati dei problemi di C.I., non lo so.